Professor Riccardi, possiamo definire sorprendente la preghiera di ebrei, cristiani e musulmani in Vaticano per la pace in terra santa? Papa Francesco è riuscito a far pregare gli uni accanto agli altri e non gli uni contro gli altri, ebrei e musulmani. Ma vede, ebrei e musulmani purtroppo basta andare in qualche moschea in Palestina e si sente che si parla contro gli altri, si prega contro gli altri. E sentire quelle voci in Vaticano, dietro quelle mura vaticane che furono costruite dopo l'846 quando gli arabo-musulmani fecero una sortita e saccheggiarono San Pietro. Insomma, sentire la preghiera musulmana lì, sentire la preghiera ebraica, forse la preghiera ebraica era stata sussurrata durante l'occupazione nazista da qualche ebreo nascosto, è una vera sorpresa. Ma al di là dell'aspetto estetico, guardiamo la sostanza. Questo è lo spirito di Assisi che è arrivato non in Vaticano, ma che è arrivato in terra santa. Come diceva Giovanni Paolo II, pregare gli uni accanto agli altri, non gli uni contro gli altri. È la chiave interpretativa di questo evento, che ha unito due presidenti. Qualcuno ha criticato, dice ma perché i presidenti? Perché i presidenti rappresentano i popoli che cercano la pace. Possiamo inserire questo evento nello spirito di Assisi, voluto da Giovanni Paolo II? Si è realizzato il sogno di Papa Voitiwa, che avrebbe avuto questa preghiera, sul Monte Sinai nel giubileo del 2000? Io credo che si è realizzato il sogno di Giovanni Paolo II, io lo chiamo ancora così, il sogno di Giovanni Paolo II di pregare insieme e di riempirsi gli occhi di visioni di pace. Perché questa è la grande intuizione di Papa Francesco, che è l'intuizione del Concilio Vaticano II, la nostra etate creativamente rappresentata da Assisi 86, un Assisi che molti avrebbero voluto restare solo una bella foto papale degli anni 80, mentre siamo stati sempre convinti che Assisi doveva continuare, doveva continuare come evento, doveva continuare sulle terre, doveva continuare a scendere nei luoghi conflittuali. Guardi, io le dico personalmente, nel 1986 ero ad Assisi e quando ci fu il Papa, ero al refettorio, poi al pranzo, ma alla preghiera, e passò davanti alla chiesa dove ero con i miei amici di Sant'Egidio e lui disse è un gran giorno. E in quello stesso giorno noi avemmo notizia della morte in un incidente del presidente mozambicano e Assisi, come preghiera, come impegno, noi pensammo che bisognava lavorare per la pace in Mozambico, quella pace poi conclusa anni dopo, nel 92. Il Papa disse abbiamo riempito i nostri occhi di visione di pace. Io pensavo a ieri, quelle donne, quegli uomini, ebrei, musulmani, cristiani, ieri c'è stata un'invocazione ma anche una visione di pace. E ora è difficile che in Medio Oriente tutto cambi da un giorno all'altro, ammesso anche il custode di terra santa, ma questo può essere sicuramente un contributo forte per chi cerca la pace. Ma ha ragione, noi non dobbiamo aspettarci che dopo la preghiera della pace venga la pace, ma dobbiamo, sì ora poi ci saranno un po' di incensi al Papa per continuare a fare come prima, che bello, eccetera, ma questo deve essere una svolta, una svolta del discorso. E ora la palla, se posso usare un termine calcistico, è a israeliani e palestinesi, ma anche alle grandi potenze, Stati Uniti, Europa, Russia, che devono fissare un termine e dare un insieme di garanzie, perché là dove c'è sfiducia, cresca la fiducia. E allora bisogna arrivare alla pace, e la pace è presto, perché ogni giorno che passa la pace si allontana di un mese. Cresce l'odio, si alza il muro, crescono le incomprensioni, allora bisogna dare garanzie, bisogna intervenire con forza perché questa ferita tra israeliani e palestinesi è diventata purulente, è una guerra che dura da più di mezzo secolo, diventerà la guerra dei cent'anni. Io credo che, come fu dopo la preghiera in Siria, fu l'occasione per riporre il discorso a una base nuova. Ecco, io credo che ora è un'occasione concreta. Ci sono stati anche gesti importanti, l'abbraccio tra i due presidenti è stato sincero e anche quasi liberatorio. La mia impressione è che Peres era commosso. Il presidente palestinese era contento, ma Peres era commosso. È un uomo che vede tutta una vita, una vita che comincia dall'umiliazione degli ebrei durante la guerra mondiale, passa attraverso le guerre, è un uomo alla fine. E lì ha avuto ragione il Papa. Io mi interrogavo perché andare da un presidente in scadenza, ma il Papa aveva costruito un rapporto umano con Peres e sapeva di poter contare su di lui, quindi realizzare questo evento. Erano commossi tutti e due. Questo è stato un grande gesto, come un gesto lulivo, ma io direi essere insieme. Perché mi permetta, se si prega insieme, se si sta insieme nei giardini vaticani, si può vivere insieme sulla propria terra. In conclusione, il Papa ha invocato il coraggio della pace. Anche dai discorsi dei due presidenti è emerso forte il desiderio di pace. I leader politici sapranno cogliere l'occasione creata da Papa Francesco come è successo per la Siria? Guardi, la parola coraggio è chiave, perché la paura fa fare la guerra. E il Papa ha individuato la chiave di questo, la parola coraggio. Ma vorrei aggiungere, ha proposto la parola fratello. Considerarsi fratelli. In fondo, una lunga storia religiosa, culturale, ma anche politica, unisce ebrei e arabi. Ebrei e arabi hanno vissuto insieme. Possono tornare a vivere insieme su basi diverse. Lei sa che c'erano addirittura ipotesi portate avanti da alcuni visionari, tra virgolette, di uno stato unico tra ebrei e arabi. Io non credo che questo sia possibile. Io credo che bisogna trovare le soluzioni. Le soluzioni ci sono. Tante volte siamo stati vicini, ma poi, come ha detto il Papa, il demonio ha allontanato la pace. Io penso che ora dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo per i giovani ebrei, per i giovani palestinesi, come ha detto il Papa, per i figli. Ma dobbiamo farlo per tutto il Medio Oriente. Perché questo sarà un segnale anche per la Siria, per il Libano a rischio di stabilità, per l'Egitto, per tutta la regione.